Amadaus lascia definitivamente la RAI, ora è ufficiale. Amadaus ha ufficialmente deciso di lasciare la RAI. La notizia è il risultato di un incontro con il direttore generale Giampaolo Rossi, durante il quale il conduttore ha espressamente comunicato la sua intenzione di non rinnovare il contratto con l'azienda al suo termine. Questa decisione conferma le voci che circolavano nei giorni scorsi, ulteriormente rafforzate dalle dichiarazioni di Fiorello, che aveva già anticipato il passaggio di Amadaus al Canale 9 per la prossima stagione televisiva. L'incontro decisivo tra Amadaus e i vertici di Viale Mazzini si è svolto questa mattina, segnando una svolta significativa nelle trattative tra il conduttore dei cinque ultimi festival di Sanremo e la televisione pubblica italiana. Le anticipazioni giornalistiche degli ultimi giorni avevano già delineato un quadro che preannunciava un addio di grande impatto mediatico. Nonostante l'addio ufficiale, Amadaus continuerà a far parte della Rai fino al prossimo agosto, quando scadrà il suo attuale contratto. Successivamente, seguirà le orme di Fabio Fazio, passando al Canale 9 del gruppo Discovery, dove è previsto un ruolo di primo piano, sebbene i dettagli del suo incarico siano ancora da definire. Un ulteriore dettaglio è stato fornito da Fiorello nel programma Viva Rai 2, dove ha annunciato che Amadaus sarà ospite dell'ultima puntata stagionale il 10 maggio, insieme a Giovanotti. Questa apparizione sarà probabilmente l'ultima di Amadaus su Rai, prima del suo trasferimento. La storia di Amadaus con la Rai ha avuto momenti di separazione e ritorni, come nel 2006, quando passò brevemente a Mediaset prima di fare ritorno a Viale Mazzini, dopo poco più di un anno. Recentemente, le tensioni e le presunte pressioni esercitate dai vertici aziendali hanno influenzato la decisione del conduttore, spingendolo verso nuove opportunità professionali. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti.